buonasera scusi non volevo spaventarla vedo che ha fatto tardi anche lei non credevo che i saldi fossero un tale caldo di battaglia mai frapporsi tra una donna e l'ultimo paio di decoltè se al fronte avessimo scritto saldi avremmo vinto la guerra e faccio strada ale che aveva in realtà stavo per farle la stessa domanda il metronote è passata mezz'ora e temo che doveva sopportare la mia compagnia ancora per un po ma in realtà è un piacere non ritrovarsi da solo in questa situazione grazie lei non è di milano se posso chiedere noi io io sono nata a venezia bellissima città ci sono stato tanti anni fa in viaggio di nozze con mia moglie e da quanto tempo è che vive a milano quindi lei e sua moglie viaggiate spesso no c'è non più sa non abbiamo più tanto tempo tra il lavoro i figli certo lo capisco benissimo e lei è sposata io no com'è che si chiama quel ponte a venezia ma in realtà venezia è piena di ponti si certo ma quello proprio dietro piazza san marco ma si dai è famosissimo una veneziana non può non saperlo il ponte dei sospiri con uno degli innamorati a beh in molti cadono in questo equivoco non è degli innamorati a dire il vero a sospirare non sono gli amanti ma i condannati si dice che una volta superato questo ponte non vedranno mai più la luce del sole e c'è differenza a volte alcuni amori sono sono più pesanti delle catene